Ciao a tutti, ora vi faccio vedere come scaricare un hack per zombie diari 2evolution. Andiamo su Google. Chrome. Facciamo incolla. Vai, e vi lascio questo link in descrizione. Quando lo scaricherete, noi ce l'abbiamo già scaricato, basta schiacciare su download. Schiacciate, installazione pacchetti. Ora vi faccio vedere tutto come funziona il gioco. E' tutto illimitato, ragazzi. Funziona molto bene, non si blocca mai. E' aggiornato anche. All'inizio vi fa provare. Vi sembrerà quello normale all'inizio, ma è tutto illimitato. Ecco qua, ragazzi. Appena avrete finito questo livello, andate. Potete fare tutto quello che volete. L'ultima arma. Potete comprare tutto quello che volete, ragazzi. Quando voi comprate qualcosa, vi aumentano sia i soldi che i diamanti. Qua. Ciao a tutti. Alla prossima.